L'Abruzzo, così come fece per i profughi afghani, si mette a disposizione per l'emergenza in corso e per accogliere la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. La regione per il momento ha messo a disposizione l'interporto di Avezzano come centro operativo. Non ci sono ancora dati certi però su un numero arrivi e date e quindi la situazione è in divenire, anche perché molte persone si stanno muovendo in modo autonomo dal paese. La protezione civile in virtù dello stato di emergenza gestirà la struttura di proprietà della regione che era gestita dalla Croce Rossa, che ha già iniziato i primi viaggi da Avezzano per portare materiale, in particolare le tende del Dipartimento, per un totale di mille posti letto. In questo momento ovviamente stiamo seguendo l'evoluzione della situazione con dei punti che facciamo quotidianamente con il Dipartimento Nazionale, siamo in contatto con le prefetture, anche per cercare di risolvere tutti quei problemi puntuali di arrivi dall'Ucraina in maniera più che altro spontanea o con alcuni pullman organizzati che ha bisogno in alcuni casi di sistemazioni. Noi siamo pronti ovviamente a ad attivare, come si diceva, il centro di Avezzano, ovviamente con i limiti anche della stagione invernale. Ovviamente la protezione civile regionale è allertata, non ci sono ancora disposizioni specifiche, ma la situazione è in evoluzione, ogni giorno si susseguono riunioni per capire richieste e necessità, sicuramente c'è quella di presidi medici. Esclusa per ora però la necessità di inviare volontari nelle zone calde. In questo momento non c'è una richiesta di questo tipo, rispondo all'ultima domanda, anche perché c'è un problema evidentemente, diciamo sì, da valutare soprattutto per quanto riguarda le nazioni che hanno richiesto aiuto, che sono la Polonia, la Slovacchia e la Moldavia. Tant'è vero che il convoglio appunto che è partito da Avezzano con le 200 tende per un totale di mille posti letto è partito per la Polonia, su richiesta della Polonia. C'è sicuramente un tema sanitario in questo momento, più all'attenzione, tanto è vero che è stata attivata la centrale, la CROSS, la centrale operativa remota per lo smistamento di eventuali casi, quindi attraverso ponti aerei di persone che hanno bisogno di particolari cure. Abbiamo attivato, attraverso sempre una richiesta dell'ERC, abbiamo attivato una indagine per capire se c'è la disponibilità di alcuni presidi ospedalieri, presidi sanitari. Inoltre, in merito alle tante raccolte di beni che anche all'Aquila si stanno attivando in modo spontaneo, dimostrando grande senso di solidarietà e lo stanno facendo anche i comuni, la cosa importante, ha ribadito Casinghini, è che arrivi in organizzazioni internazionali che sanno come farle arrivare a destinazione e conoscono bene le necessità. Abbiamo notizia che il Consiglio regionale ha attivato un punto di raccolta, ovviamente non è coordinato con la protezione civile per i motivi che spiegavo prima, così come i comuni hanno attivato anche loro dei punti di raccolta. In questo caso ovviamente la solidarietà abruzzese la fa di nuovo da padrone e siamo veramente felici. L'importante è che tutta questa raccolta sia coordinata comunque con organizzazioni internazionali che hanno dei punti di riferimento nei paesi appunto che hanno bisogno.